bentornato goodlier bentornata continuiamo nella descrizione della sezione impostazioni del pannello di windows 10 è ora il momento della sezione privacy questa sezione ti permette di impostare parametri per tutelare la tua privacy in relazione ai programmi e dalle periferiche che impieghi nel computer potrai gestire in maniera quasi maniacale le impostazioni accedi dal pulsante start individuando l'icona ingranaggio e infine il pulsante privacy qui rappresentato nascerà una lista di sottosezioni molto popolata generale posizione fotocamera microfono notifiche riconoscimento vocale input penna e digitazione info account contatti calendario cronologia delle chiamate email messaggistica radio altri dispositivi feedback e diagnostica ed infine app in background in ognuna troverai varie voci che ti permetteranno di impostare parametri dedicati per rendere libero l'accesso alle due informazioni o tutelarle nella sottosezione generale quindi la prima troverai dei cursori che ti permettono di gestire le opzioni della privacy le app potranno utilizzare o meno un tuo numero identificativo indicato con la sigla id attivando il filtro smart screen verranno controllati gli indirizzi dei siti che visiterai tramite le applicazioni scaricate dallo store della microsoft per rilevare potenziali siti pericolosi un altro cursore ti permette di inviare alla microsoft informazioni sul tuo metodo di scrittura per migliorare le digitazioni in futuro un cursore dedicato invece alle lingue permette ai siti di rilevare la lingua che stai utilizzando e fornirti contenuti dedicati alla tua area geografica un altro cursore consente la continuazione delle esperienze d'uso tra i vari dispositivi cosa significa abilitandolo potrai avviare la continuazione di un'esperienza iniziata su un dispositivo e terminandola invece oppure proseguendola su un altro qui una rappresentazione dei vari cursori che ho appena descritto un ultimo per questa sottosezione è relativo all'uso bluetooth eccolo qui indicato le app dei tuoi dispositivi potranno aprire le applicazioni in quest'ultimo dispositivo come precedenza per continuare l'esperienza d'uso iniziata in un altro dispositivo e terminata su quest'ultimo la sottosezione posizione permette di impostare il rilevamento della posizione per tutto o parte delle applicazioni attive sul dispositivo se non vuoi fornire la posizione precisa potrà impostare parametri generici come la città il cap o un luogo predefinito un pulsante ti consente di cancellare la cronologia delle posizioni infine una serie di altri cursori ti permette di selezionare o meno l'utilizzo della cronologia per le singole applicazioni la sottosezione fotocamera permette o meno alle applicazioni di poter utilizzare la fotocamera del dispositivo stesso un cursore generale permetterà di attivare o meno questa scelta e infine una serie di altri cursori ti permette di gestire una scelta più granulare la sottosezione microfono è equivalente a quanto specificato per la fotocamera ma in questo caso per il microfono qui un cursore per l'attivazione generale e altri cursori per definire in maniera più particolare la gestione della privacy per l'uso del microfono la sottosezione notifiche abilita l'accesso alle notifiche del sistema operativo da parte delle applicazioni in caso di presenza di altre applicazioni dedicate poi eseguire una selezione per singola app come in precedenza la successiva sottosezione gestisce le informazioni su di te che cosa significa windows e cortana possono riconoscere la tua voce e la grafia per proporti suggerimenti dedicati al tuo modo di utilizzare pc con il pulsante interrompi info su di te naturalmente puoi interrompere la raccolta di queste informazioni con info account consenti o meno alle app di accedere alle informazioni sul tuo account come nome immagini del profilo e altre cose che ha impostato anche qui in caso di presenza delle applicazioni dedicati potrai selezionarli in maniera specifica la sottosezione contatti consente o meno alle applicazioni di accedere alla lista dei tuoi contatti e dopo aver selezionato il cursore generale potrai gestire una lista per singola applicazione la sottosezione calendario consente o meno alle applicazioni di accedere al tuo calendario per visionare eventuali appuntamenti note o altre cose che hai gestito tramite il calendario anche qui il cursore generale e altri singoli cursori permettono una scelta per singola applicazione la successiva sottosezione consente alle applicazioni di accedere o meno alla cronologia delle chiamate che hai effettuato o che effettuerai come in precedenza il singolo cursore permette di gestire in maniera più specifica l'utilizzo della cronologia delle chiamate invece la sottosezione email consente all'applicazione di accedere alle tue email oppure anche inviarne se ne occorresse l'utilizzo altri cursori possono sempre gestire la scelta per la singola applicazione con la sottosezione messaggistica puoi consentire all'applicazione di leggere o inviare sms o mms naturalmente se è possibile dal tuo dispositivo e come sempre puoi parzializzare la scelta delle singole applicazioni con la sottosezione radio consente o meno alle applicazioni dedicate per poter controllare la radio del dispositivo oppure la tecnologia annessa come bluetooth per l'invio o la ricezione dei pacchetti dati per il suo ascolto e come sempre eventuali liste delle applicazioni ti permetteranno di scegliere in maniera specifica la sottosezione altri dispositivi consente o meno la condivisione di informazioni tra i vari dispositivi con la sincronizzazione annessa c'è anche il cursore relativo a usb flash drive che ti abita o meno l'uso delle periferiche usb se sono connesse da parte delle applicazioni che ne richiedono l'uso in tal caso non sono da intendersi solo supporti di memoria ma qualsiasi dispositivo a connessione usb la sottosezione feedback e diagnostica chiede se poter ricevere da parte della microsoft feedback in automatico con una certa frequenza oppure inviarle mai in assoluto anche per poter ricevere dati di diagnostica e utilizzo sul dispositivo in maniera limitata oppure completa questo tramite due menu a tendina che potrai generare l'ultima sottosezione consente o meno la scelta di quale applicazioni possono lavorare in background ricevendo informazioni inviare notifiche o essere aggiornate anche quando non vengono utilizzate queste applicazioni la nota immagine è che ciò può aumentare o diminuire il consumo di energia e risorse se attivati o meno questi cursori relativi come puoi vedere la vastità delle possibili scelte rende però migliore la parzializzazione delle informazioni tue o del dispositivo che possono giungere a terze parti o impiegate dalle applicazioni ricorda che disabilitando le funzioni della privacy in tal unicasi puoi inficiare la funzionalità della specifica applicazione ecco google la zona pratica andiamo a cliccare sul pulsante start impostazioni e successivamente sul pulsante privacy qui hai snocciolato tutta una serie di sottosezioni che andremo a vedere la prima è generale che ti permette tramite dei cursori di attivare o disattivare la possibilità dell'utilizzo del tuo identificativo nelle esperienze che le varie applicazioni utilizzeranno se non ti servono naturalmente disattiva queste opzioni questo cursore permette di attivare un filtro che andrà a controllare il contenuto web quindi gli indirizzi url utilizzate dalle applicazioni del windows store che potrebbe quindi essere utile questo cursore potrebbe permettere l'invio di informazione su come scrivi per contribuire il miglioramento della digitazione della scrittura in futuro mentre questo permette di far accedere al sistema operativo e quindi al web alle lingue che stai utilizzando qualora fossero più di una oltre quello italiano in modo da fornirti durante la tua navigazione dei contenuti rilevanti alla tua area geografica potrebbe essere utile lasciarlo attivo questo cursore se hai diversi dispositivi che dialogano l'un l'altro lo puoi attivare in modo da consentire che le applicazioni possano essere iniziate e terminate sugli altri dispositivi nel mio caso lo disattivo quest'altro permette di consentire all'applicazione dei vari dispositivi di utilizzare bluetooth per fare quasi il reverse di questo precedentemente abilitato o meno in quanto potrai utilizzare i tuoi dispositivi e terminare l'esperienza d'uso di quella specifica azione su questo dispositivo questi due pulsanti rimandano a delle pagine della microsoft che ti daranno spiegazioni su alcune funzionalità la seconda sottosezione posizione permette di rilevare la posizione del tuo dispositivo in questo caso è disattivata nella mia postazione cliccando su modifica potrai abilitarla tramite questo cursore e veder abilitato anche questo che ti permette di poter visionare questa icona in una zona dello schermo nella fattispecie nella sistrei in modo da evidenziare che quella applicazione sta facendo uso della tua posizione in sequenza potrai abilitare una posizione generica tramite questo cursore come la città il cap e l'area geografica in alternativa oppure scegliere una posizione predefinita dalla mappa che in seguito si aprirà qui potrai gestire il consenso o meno affinché l'applicazione mappa di windows possa ottenere la tua posizione esatta qui la notifica per poter scegliere la tua impostazione predefinita che potrai utilizzare tramite questo pulsante nel mio caso posso scrivere la città fin anche nel dettaglio andare a selezionare persino la via chiudiamo questa sezione un pulsante relativa alla cronologia delle posizioni ti permette di rimuovere questa cronologia in modo da cancellare tutte le precedenti ubicazioni qui trovi alcune applicazioni che possono utilizzare la tua posizione esatta naturalmente se andrai ad abilitare questi cursori disabilitiamo quanto precedentemente selezionato per questo specifico dispositivo la sottosezione fotocamera permette di abilitare l'uso della fotocamera da parte delle applicazioni come puoi vedere disabilitando il cursore principale avrà inibita la possibile scelta di questi cursori nel qual caso potrai gestire in maniera granulare per singola applicazioni l'utilizzo della fotocamera naturalmente se non hai la fotocamera installata sul tuo pc o eventualmente notebook puoi senz'altro disabilitare queste opzioni senso discorso per la sezione microfono che ti permette di abilitare o meno l'utilizzo del microfono in maniera generale o in maniera granulare tramite le varie applicazioni la sottosezione notifiche ti permette di scegliere eventualmente se le applicazioni possono accedere alle tue notifiche in questo caso specifico non applicazioni che permettono di eseguire una scelta più dettagliata la sottosezione riconoscimento vocale input penna e digitazione ti permette di scegliere se windows e cortana possono riconoscere la tua voce la grafia per proporti successivamente suggerimenti migliori e in quel caso verranno raccolte come dice la nota informazioni su comandi vocali modi di grafia e cronologia delle informazioni cliccando su questo polsante potrai avere l'interruzione delle informazioni che windows e cortana ottengono su dd ma come nota naturalmente alcune operazioni potranno essere inibite qui altri link che ti permettono di visionare pagine della macosoft la sottosezione info account permette di far accedere alle applicazioni ad alcune impostazioni del tuo account come nome immagini ed altre informazioni disabilitando questa opzione inibirai naturalmente questa opportunità la sottosezione contatti fa sì che le applicazioni possano accedere o meno alla lista di due contatti e qui selezionare in maniera specifica la singola applicazione disabilitiamo perché sto utilizzando un pc la sottosezione calendario permette di abilitare o meno l'utilizzo di applicazione del calendario nel quale tu potrai impostare alcuni appuntamenti o note che meglio deciderai nell'uso del tuo pc la sottosezione cronologia delle chiamate consente alle applicazioni di accedere alla cronologia delle chiamate che effettuerai e naturalmente potrai disattivare o meno questa scelta nel mio caso naturalmente ho un pc che non effetto a chiamate e lo posso disabilitare la sottosezione mail permette alle applicazioni di accedere alle mail o inviarle in maniera automatico qualora fosse necessario la sottosezione messaggistica permette alle applicazioni di leggere oppure inviare sms o mms e la disabilitazione o abilitazione può avvenire in maniera granulare la sottosezione radio permette ad alcune applicazioni di poter utilizzare questa funzionalità quindi quella della radio e anche annessa la funzionalità la tecnologia bluetooth per l'invio e ricezione dei dati tramite il tuo dispositivo nel mio caso la vado a disabilitare la sottosezione altri dispositivi permette di gestire al meglio l'intero parco dei tuoi dispositivi permettendo di condividere i contenuti e qualora fosse attivo anche la sincronizzazione tra pc tablet e telefono per l'ultima sottosezione feedback e diagnostica potrai decidere se windows potrà ottenere un feedback in maniera del tutto automatico se vorrai potrai anche disattivare stesso discorso relativo alla diagnosi e all'utilizzo potrai avere informazioni fornite alla microsoft di base o avanzata oppure completa a te la scelta nella gestione di questa sottosezione infine ultima sottosezione app in background potrai scegliere quale delle applicazioni che si presentano nella tua lista potrà funzionare in background durante l'uso del sistema operativo naturalmente se vorrai risparmiare energia andrai a disabilitare la singola applicazione se non ti tornerà utile e questo comporterà naturalmente un risparmio di energia ricorda naturalmente che andando a disabilitare alcune funzionalità potresti non poter utilizzare la singola applicazione durante l'utilizzo del sistema operativo nella prossima lezione continueremo a parlare delle informazioni su windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da gallo e dalla prossima